Mancano ormai pochi giorni al 31 ottobre, 31 ottobre che è il giorno della Samhain. Sì, Samhain è il nome del capodanno celtico, questa popolazione che viveva nel Ticino, nell'Insubria qualche millennio fa e alla quale abbiamo dedicato il nome di questo grande vino in onore della generosità del suolo ticinese. Samhain è un vino importante, strutturato, ricco, che viene da questo vigneto, che dà una qualità sicuramente eccezionale, una resa molto bassa che dà sicuramente delle uve concentrate e quattro anni di affinamento per raggiungere un'armonia, un equilibrio, una complessità che è assolutamente unica. Spesso in degustazione alla cieca si sono dati veramente degli aggettivi molto particolari per questo Samhain che se vogliamo esce un po' dai sentieri battuti di quello che è la produzione ticinese. È un vino d'eccezione che non dovrebbe mancare nella cantina di ogni appassionato dei vini ticinesi e sicuramente è un vino che si adatta a un regalo ricercato, esclusivo, pensato. Per cui ecco, dal 31 ottobre, mancano pochi giorni, può lasciare la cantina e potrà arrivare alle vostre cantine.